Come si è iniziato a fare il primo comando navale? Ebbe un'esperienza veramente formidabile. Questo che vedete è il cofanetto che mi regalò l'equipaggio alla fine del mio periodo di comando e in questo cofanetto c'è la cosiddetta fiamma. Ecco, questa è la fiamma, questo è il jack della marina. Come vedete è una fiamma sporca, vercia, vissuta, lunga ed è l'insegna di comando che praticamente viene fatta garrire nel punto più alto della nave, sull'albero di maestra e praticamente rimane sempre lì, a meno di cambiarla man mano che si naviga, anche perché la sua lunghezza è in funzione delle miglia percorsa dalla nave e durante la sua navigazione. Quindi chiaramente un comandante, un buon comandante, si augura sempre che questa fiamma sia sempre più lunga e sia sempre più sporca, perché vuol dire che ha fatto un comando di quelli tosti, che ha navigato molto e quindi questa è un po' la storia anche della fiamma che mi faceva piacere condividere. L'altra cosa che vorrei sottolineare, questo comando navale arricchisce enormemente la leadership dei piloti di marina, perché dopo un comando navale, quando uno ritorna ai reparti di volo, arriva e porta anche l'esperienza che è accumulata a bordo della nave, quindi un'esperienza accumulata nel governare uomini che sono strutturati in un equipaggio, in una nave che è una realtà tutta sua, che dispone di tutto ciò di cui ha bisogno per poter operare. Quindi noi trasferiamo, noi piloti di marina, trasferiamo anche nel nostro mondo aviatorio questo stile, questo stile di leadership, queste competenze, queste doti che acquisiamo anche nel comando delle unità navali. Il Milazzo è stata la mia prima nave, poi da capitano di fregata ho comandato una fregata, la fregata Espero, e poi da capitano di Vascello ho avuto il privilegio e il piacere immenso di comandare anche la portaerei Garibaldi. Il comando navale tuttavia mi impedì di partire con il primo gruppo di piloti che si recarono negli Stati Uniti per la transizione sui jet per poi diventare piloti di Harrier. Quindi insomma è stato un incarico, un'esperienza di lavoro professionale fantastica, però mi fece perdere diciamo il primo treno o aereo. Dovetti aspettare il primo di luglio del 1990 per imbarcarmi nuovamente su un volo all'Italia per tornare negli Stati Uniti e cominciare l'addestramento sui jet. La prima destinazione fu la Naval Air Station di Meridian dove pilotai il T2 Baccai. Ecco qua, quello che vedete, questo non è il T2 ma è l'A4. Purtroppo non ho il modellino del T2 da farvi vedere, dell'A4 parleremo dopo. Il T2 è un addestatore perfetto direi, un padre di famiglia, è un aereo al quale gli si poteva fare veramente di tutto, bastava lasciare i comandi e lui si raddrizzava da solo. Veramente un aereo straordinario. L'esperienza di pilota di elicottero devo dire che non mi fu molto utile nella transizione sui jet, perché vi faccio un esempio molto banale. Se con un elicottero io voglio scendere di quota, riduco la potenza, mi metto a picchiare un po' e l'elicottero scende. Bene, se voglio ridurre di quota rapidamente con un jet, quello che io faccio è inverto l'aeroplano, tiro verso il basso, perché tirando G positivi ne posso tirare più che non G negativi. Quindi inverto, quando sono sull'angolazione desiderata, raddrizzo l'aeroplano e comincio a scendere. Quindi chiaramente questa sensazione di stare a testa in giù con l'elicottero evidentemente non l'avevo maturata e poi chiaramente anche altre considerazioni. L'addestramento sull'elicottero però mi tornò molto utile, ad esempio, nella transizione con l'Arier, perché come sapete l'Arier è un aereo che si può fermare in aria, può fermarsi in hovering come un elicottero e quindi lì ciò che avevo imparato sull'elicottero per quanto riguarda dove guardare e come gestire la macchina mi tornò molto comodo. Una delle cose più belle, indimenticabili, dell'addestramento sui jet chiaramente è la carrier qualification, ossia l'attività che ho svolto per poter essere qualificato agli appontaggi e ai decolli dalle portaerei. L'addestramento avveniva inizialmente su terra, su terra si andava su un aeroporto che veniva attrezzato ad hoc per questo tipo di attività, perché andava marcata la posizione precisa dove l'aereo doveva, il punto in cui l'aereo doveva tutte le volte atterrare in modo tale da addestrarci a questi atterraggi di precisione perché altrimenti sulla portaerei non ci saremmo mai arrivati. Quindi ci si addestrava, a essere molto precisi, a fare anche degli atterraggi piuttosto duri perché l'aereo deve passare dalle condizioni di volo alla condizione di essere fermo sulla superficie nel modo più rapido possibile. L'addestramento a terra prevedeva la presenza dell'istruttore che insegnava i fondamentali per poter poi andare a bordo però poi sulla portaerei ci si andava sempre da soli. Questo perché lo diceva la statistica, lo ha insegnato la statistica perché negli anni precedenti, quando venivano utilizzati gli istruttori si sono accorti che tutte le volte che uno studente faceva un errore particolarmente importante, con conseguenze catastrofiche l'istruttore da dietro non riusciva, non aveva veramente il tempo e ne riusciva a impedire il disastro. Quindi a quel punto fu deciso di evitare, di rischiare la vita dell'istruttore e quindi mandare i piloti in formazione, gli studenti da soli alla nave. Quindi un discorso che da un punto di vista statistico non fa assolutamente una grinza. Ecco, io avrei fatto parte di un gruppo di studenti che sarebbero andati sulla portaerei Lexington per l'ultima volta perché poi questa portaerei era destinata a diventare una nave museo e quindi quella era veramente la sua ultima attività. Era una portaerei molto anziana perché era stata consegnata alla Marina Americana nel 1943 e nel 1962 era diventata una portaerei addestrativa quindi veniva utilizzata soltanto per questo tipo di attività. Ci trasferimo quindi a Key West in Florida che era la base dalla quale partivamo per raggiungere la portaerei tuttavia tutto l'entusiasmo, l'allegria, la felicità di essere lì per questa straordinaria fase addestrativa fu purtroppo segnata da una tragedia che si verificò durante la quale uno studente, uno di noi morì proprio il giorno in cui stava dirigendo verso la portaerei faceva parte di una formazione di quattro aeroplani lui volava in formazione e praticamente si trovò si schiantò in acqua sostanzialmente e quindi quel momento lì quando tutti quanti ci sentivamo quasi invincibili dover trovarci di fronte alla morte di uno di noi di uno studente, un ragazzo giovane che aveva tutta quella passione quella voglia di avventura che avevamo noi e soprattutto aveva ancora tutta la vita davanti fu un momento veramente terribile peraltro non ci fu dato spazio neanche per il nostro dolore per le nostre lacrime perché l'attività doveva andare avanti a tamburo battente the show must go on quindi veramente non ci fu neanche il momento per riflettere un po' sull'accaduto perché sostanzialmente si discusse la questione soltanto da un punto di vista della sicurezza del volo in modo tale da mettere in guardia tutti gli studenti dall'importanza di rispettare le procedure di non fare errori perché è una professione sulla quale certamente non si può avere un approccio superficiale una cosa era certa mi ero avviato verso una carriera certamente rischiosa rischiosa soprattutto per i più giovani quelli meno esperti e quindi anche quelli più vulnerabili grazie a tutti